E' bella a tutti ragazzi e siamo tornati in un altro video, questo sarà una cosa veloce, volevo solo farvi vedere questo, il dio sta arrivando, ormai è ufficiale, sta arrivando il dio, dai carica dai, arriva Goku Ultraistinto, cosa sappiamo adesso? Avrà sì la forma tour, funzionerà come carta come le nuove LR, come Goget e Veget, bisogna capire ancora come, non ho ancora tradotto bene, non ho capito bene, però a certe condizioni diventa Goku Mastered, quindi sì, come dicevo io, è sempre lo stesso Goku Wind, Ultraistinto, lo portiamo a tour, sarà Goku Ultraistinto con dietro il Mastered, adesso vi metterò la foto, vi metterò anche il video della special, dell'ultra, comunque bellissimo, una cosa bellissima, anche la special, veramente bella, adesso comunque lo vedrete subito da voi, vi lascio prima la foto, così vedrete bene la carta come è, dopo la foto farò partire il video, comunque devo dire che veramente la Bandai ha fatto qualcosa di spettacolare, come potete vedere la carta è qualcosa di meraviglioso, è una cosa stupenda, mamma mia. Che dire? Che dire? Che dire? Meraviglioso, leggendaria questa carta, veramente stupenda, a me piace un sacco, sinceramente, non vedo l'ora di che esca domani, spero di pullarla, perché nel Global c'erò in Ability anche, mi pare, sì, o no, o non mi ricordo, nel Jump la voglio, la voglio, la voglio, la voglio, la voglio, veramente tanto, spero che i rate comunque siano alti, e che ci facciano contenti a tutti, chiudo subito il video, buona serata a tutti, lasciate un like, al prossimo video, ciao ragazzi.